ragazzi qui voglio vedere tutto il vostro supporto lasciate una marea di mi piace se volete subito la video reazione del buon Fabio ho appena finito di spacchettà voi ancora dovete vedere il video non potete capire che cosa io ho beccato ebbene sì ragazzi ebbene sì il video che tutti voi stavate aspettando io un po meno è arrivato infamata l'infame è tornato e il Gabon va a spacchettare sull'account del buon Fabio PES 2021 per la prima volta ma regà regà non potete capire c'ha 200.000 palloni da aprire tra cui anche cinque iconic moment di quelle assicurate quindi regà lasciate una marea ma una marea di mi piace su questo video se volete presto la prima sfida my club ufficiale tra Gaboman e Fabio su PES 2021 perché tanto voi gli apro talmente tanta roba che vedrete voi c'è una squadra più forte di me iscrivetevi a questo canale youtube e attivate la campanella per non perdervi tutte le notifiche dei miei nuovi video fate la stessa cosa sul mio secondo canale youtube pubblico due video al giorno cliccate iscrivetevi e attivate la campanella ragazzi miei ragazzi miei ci sta da mettersi le mani ai capelli perché manco io c'avevo cinque iconic moment assicurate ce n'avevo tre lui ce n'ha cinque lui ce n'ha cinque non oso immaginare quello che gli posso trovare ragazzi miei ma voi non sapete una cosa perché ovviamente se comincia il gioco e te dà l'alternativa le cose io ho scelto ve lo faccio vedere in prestito Kylian Mbappé perché so che lui è un grande stimatore via dicendo e poi però quando vai a cominciare il my club ti dà un pallone oro secondo voi chi ha pescato chi io ho pescato Dio Zlatan si ha pescato Dio Zlatan ragazzi miei quindi dicendo 83 è pur sempre Dio Zlatan ma non è finita perché adesso parte lo spacchettamento a tradimento ma tradimento che tanto voglio pesco pure la madonna allora preparatevi ragazzi vi faccio vedere tutto quel che ha a disposizione c'ha veramente l'imbarazzo della scelta allora cinque iconic moment cinque palloni neri assicurati tra regà Bergamp, Van Basten, Beckenbauer, Rumenig, Rijkaard, Iniesta, Gullit, Beckham, Del Piero, Nedved, Pujol, Vieira, Roberto Carlos, Fernando Torres, Itetoshi Nakata e Pippo Inzaghi cioè lui c'ha cinque calciatori assicurati tra questi vi ha ricordato la formazione mia MyClub? Ecco preparatevi che tanto me supera a livelli esagerati e spolliciate se volete la prima sfida MyClub tra gabbo me ne è il buon Fabio ma prima di spacchettare questi non so se avete visto c'ha il pull da collezione quindi c'ha un calciatore assicurato tra le nonne, le zie, i Bayern, le go regà è un pallone nero assicurato tra Messi, Ronaldo, Lewandowski, Obama e Young di Bala, Bruno Fernandes, La Gazette, Kimmick, De Jong, Vigenia, Bri, Rashford, De Ligt, Shaka e Megaira non aggiungo altro no no c'è da aggiungere in realtà perché ci sta veramente il mondo vuoi dire è finita qua no c'ha un premium agent ci ha messi ci ha messi pure lui assicurato e poi ci stanno anche altri pacchetti io comincerei comincerei da quello che è assicurato perché questo è assicurato ragazzi cioè questo già comincia andiamo per gradi andiamo per allora ingaggiamo e quindi pure lui quindi sono sei le Iconic Moment perché pure questa è un Iconic Moment l'imortacci sua che so pure i mia ragazzi miei ci ha messi pure lui e parte proprio le situazioni di quelle bom 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 è lui è quello di una volta però non è il Messi di adesso è il Messi 94 19 anni che faceva bagnare tutte qua eccola bene perfetto cominciamo male Messi please come to Roma Messi è arrivato alla Roma a 19 anni e questa l'abbiamo fatta mo preparatevi eh capirei ragazzi miei qua c'è sta solo che da mettesi le mani ai capelli allora agente speciale questo è un premium agent di quelli che te dà possibilità di pescare qualsiasi cosa praticamente ma c'è il 2,9% dei palloni nero rapidamente regà tutti i palloni neri e tutti i palloni oro tutti i palloni del gioco ecco lo spacchettiamo ovviamente è un per tre però quindi comunque gli vado a rinforzare non poco quella che è la sua la sua rosa iniziale a prescindere perché c'ha tutti i palloni bianchi pippette guarda cappiator nero guarda cappiator nero no ma qua era difficilissimo beccarlo l'ha beccato non ci posso crede col 2% io devo mettere le pacce ma col c***o che gliele metto la paura mia è che mo dentro c'è il pacchetto è da tre ce ne posta un altro mamma mia regà seferovic è low tone c'è low tone non ci posso credere io non c'ho parole ragazzi con il 2% dei palloni nero con il 2% di palloni nero questo è stato capace di pescarlo siete pronti pull da collezione l'avete visto prima è inutile che ve lo faccio rivedere rapidamente c'è c'ha un pallone assicurato tra questi guarda piglia messi ronaldo levandoski obama young c'è peggio che gli va prende mcgair shaka del hit con del hit ha fatto già la coppia con sergio ramos con de jong al centrocampo se si ste andiamo a vedere ho già usato come va a finire ho già io già ho capito l'antifona ho già capito l'antifona già so come va a finire vai bene ecco dove ti è my club siete pronti campionato italiano campionato italiano chi è è di bala ho visto bene no è delitto io l'ho chiamato non ce posso credere ragazzi miei ma questo cresce diventa una be ha chiuso la difesa ha sistemato completamente la difesa io non ci posso credere ma che è ma che è mortacci tua che li mortacci io non c'ho parole regà c'ha 5 iconic moment no moment a pasticca per mar de capoccia regà c'ha la possibilità di pianne 5 tra questi vado immediatamente preparatevi 1 mamma mia ragazzi miei mamma mia ragazzi miei mamma mia ragazzi miei non ci posso credere prima iconic moment ma sapete questo che formazione ci tira fuori voi non lo potete minimamente capire barra immaginare primo stava di e pallone nero non ci posso credere no per forza ne allora che fa questo il mezzo speculizza e distribizza meno male quello è quello meno meglio beh trequartista 89 ragazzi miei noi abbiamo un bel ricordo con i detoshi nakata però meglio nakata che altri sicuramente è please return to roma è ritornata a roma oh me sa che gli fa pure il bonus perché è ritornata a roma aggiungiamo ai membri ma i class ragazzi non ci posso credere ragazzi non ci posso credere seconda spacchettata che avirai mamma mia ragazzi miei mamma mia iconic moment preparate che questo avvierà preparate se becca becam capirai uno dei suoi preferiti in assoluto allora piede destro è statuato non lo no non mi gliel'avevo 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 perché pure voi partecipate al video gliel'avevo spompicchiato in una maniera di quelle pazzesche altri tre altre tre iconic moment preparatevi che momenti a me il mar de capoccia ma devo piar veramente una moment allora è bella la grafica le nonne e le zie ragazzi ciò temo per la mia incolumità è sinistro fermi un attimo non lo riconosco che no 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 ma anche io l'ho trovato il suo terzino preferito dei vecchi best dei vecchi pro evolution social ragazzi ragazzi io ho trovato roberto carlos ragazzi io ho trovato roberto carlos quanti ricordi tiravamo da centrocampo segnava sempre ai vecchi is pro per la playstation 1 io ho trovato roberto carlos io ho tappato pure il terzino io ho tappo ma non è finita qua è questo quello che me preoccupa e tu dici ma che è finita non è finita qua ragazzi non è finita qua un altro iconic moment non c'è posso crede ragazzi io non c'è posso che io non c'è posso crede io non c'è posso crede è che dove ti è vai che è van basten mi sembra proprio lui è van basten li mortacci sua regà van basten ce l'ho pure io regà van basten là davanti è una belva è una belva benissimo ecco benissimo insomma fino a un certo punto lo aggiungiamo ai membri my club e ovviamente arriva l'ultima spacchettata ma spolliciate ragazzi perché vi faccio vedere poi la reazione del buon fabio mamma mia ecco vai dai facci ride dai eccolo vai siamo pronti piede destro chi è maniche luca nooo no spero che non è quello che sto immaginando nooo nooo il suo preferito il suo preferito non ci posso crede non ci posso crede ragazzi roberto carlos beckham van basten messi io non c'ho parole ragazzi mo che vede beckham mo che vede beckham ragazzi non sarà facile si è fatto una squadra di quelle pazzesche io vi invito a lasciare una marea di mi piace su questo video se volete la reazione del buon fabio lo prendo gli faccio aprire il my club non sa che io ho spacchettato gli dico cominciamo il my club ecco e si ritrova davanti tutti i fenomeni vediamo come la prende quindi vi piace commentate condividete iscrivetevi a tutti e due i miei canali cliccate cliccate attivate i campanelli se non vi arriva le notifiche profili social instagram compreso tutto in descrizione e contenuti consigliati se volete la reazione del buon fabio e poi vi faccio vedere anche tutta la sua formazione come se l'è sistemata e poi magari lo facciamo anche spacchettare così poi arriva la sfida my club non ce posso credere non ce posso credere non ce posso credere non ce posso credere